è l'arca che entra apri tutto l'arca è l'arca che sta è l'arca che sta è l'arca che sta è l'arca che sta è la parte più difficile è la parte più difficile vai apri 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 puoi dire tutto è questa la fai come fa il marzo ma vado davide sei partito con la giornata anche oggi è stato la caccia dai ma